Buongiorno e ben ritrovati con l'informazione di Telebari da Roberto Maggi. In primo piano 389 sanzioni nel Barese negli ultimi 10 giorni di zona gialla. Da lunedì però si passa in zona bianca. Vediamo cosa cambia nella nostra regione. È ufficiale, da lunedì 14 giugno la Puglia entrerà in zona bianca ad annunciarlo il Ministro della Salute Roberto Speranza che conferma il passaggio nella zona meno restrizioni anche dell'Emilia-Romagna, della Lombardia, del Lazio, del Piemonte e della provincia autonoma di Trento. Queste si aggiungerebbero così a quelle già in questa fascia come l'Abruzzo, la Liguria, l'Umbria, il Veneto, il Molise, il Friuli Venezia Giulio e la Sardegna. E così la Puglia lascerà breve la zona gialla e nel frattempo si prepara ad entrare nella fascia più bassa delle restrizioni. Ma cosa cambierà da lunedì 14 giugno? Innanzitutto la nuova fascia consentirà la cancellazione del coprifuoco con una settimana di anticipo rispetto al limite del 21 giugno fissato dal Governo. Ci si potrà spostare senza limiti relativi agli orari o ai motivi dello spostamento verso altre località della zona bianca, senza limiti di orario verso tutto il territorio nazionale se lo spostamento avviene per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute verso località della zona gialla, senza doverne giustificare il motivo nel rispetto delle specifiche restrizioni di orario previste per gli spostamenti in quella zona. Nessun limite di orario nel numero di persone che si spostano per far visita a parenti o amici. Si può far sempre rientro alla propria seconda casa se situata in zona bianco o gialla. Sarà possibile usare l'automobile con persone non conviventi purché sia presente il solo guidatore nella parte anteriore della vettura e due passeggiori al massimo per ciascuno ulteriore fila di sedili posteriori con obbligo per tutti i passeggeri di indossare la mascherina. Le attività di ristorazione potranno restare aperte senza limiti orari. Al chiuso si potrà stare in sei al tavolo, all'aperto. Non ci saranno limiti di persone ai tavoli. Si deve sempre osservare il distanziamento interpersonale e bisogna indossare la mascherina quando ci si sposta all'interno del locale. Sono consentite senza restrizioni anche la vendita con asporto di cibi e bevande e la consegna a domicilio. Riaprono le piscine anche al coperto, i centri benessere, le fiere, le sagre i convegni e i congressi, i centri culturali, i centri di formazione e i parchi tematici e di divertimento, le sale bingo e i casino. Gli eventi sportivi che si svolgono al chiuso sono aperti al pubblico. Pia libera i banchetti di nozze senza limiti numerici per le cerimonie. Gli ospiti dovranno però essere in possesso del Green Pass. Per la ripresa vera e propria del settore e delle discoteche invece c'è ancora da aspettare. Queste ultime potranno però in zona bianca riaprire i loro spazi ma solo ed esclusivamente per servire aperitivi, cena e cocktail. Una notizia incoraggiante è quella del passaggio della Puglia in zona bianca che però non deve far abbassare la guardia. Resta l'obbligo di mascherina e come sottolineato dall'assessore alla sanità della regione Puglia dobbiamo continuare a mantenere il distanziamento sociale e l'igiene delle mani. Il vaccino, dichiara Pierluigi Lopalco, farà da argine a nuove fiammate della pandemia ma il virus continua a circolare e, raccomanda allo stesso assessore, occorre ancora fare attenzione per non vanificare gli sforzi fatti. È la buona notizia, scusate, no, non si racconta nessuno. Contento sia per noi che per l'economia perché le persone stavano soffrendo, cioè almeno lavorano i ristoranti e naturalmente bisogna educare i giovani a farli capire che il problema è serio. Rispettare la distanza, portare la moscherina che non tutti la portano e comunque speriamo che prima finisci e meglio essere. Finalmente una cosa buona, anche perché comunque si può uscire, cioè si può di nuovo ritornare diciamo all'attività. E proprio mentre la campagna vaccinale proseguiva spedita, sono sorti ulteriori problemi su AstraZeneca. Ieri nuove decisioni da parte del CTS e oggi una circolare del Ministero che chiarisce bene le nuove regole per il vaccino AstraZeneca e le raccomandazioni per il vaccino Janssen di Johnson & Johnson. Il vaccino Vaxzevria di AstraZeneca verrà somministrato solo a persone di età uguale o superiore ai 60 anni. Per persone che hanno ricevuto la prima dose di tale vaccino e sono al di sotto dei 60 anni di età, il ciclo deve essere completato con una seconda dose di vaccino mRNA come i rinati di Pfizer o Moderna da somministrare a una distanza di 8-12 settimane dalla prima dose. E' quanto riportato dalla circolare del Ministero della Salute dopo il parere del comitato tecnico-scientifico venuto fuori nel pomeriggio di venerdì. Una notizia che era nell'area che costringerà anche la Puglia a rivedere in parte i piani per la campagna vaccinale, sebbene qui non siano stati organizzati open day destinate ai più giovani con AstraZeneca. Un discorso simile va fatto anche per il vaccino Janssen. Il farbaco della Johnson & Johnson monodose viene raccomandato per soggetti di età superiore ai 60 anni qualora si determinino specifiche situazioni in cui siano evidenti le condizioni di vantaggio della singola somministrazione in assenza di altre opzioni, il vaccino Janssen andrebbe preferenzialmente utilizzato previo parere del comitato etico territorialmente competente. Qui invece erano state organizzate giornate di somministrazione libera, ma non essendo necessario richiamo non si porranno ulteriori problemi per il futuro. Siamo pronti ad attuare immediatamente le disposizioni del commissario Figliuolo su AstraZeneca, ha precisato l'assessore regionale della sanità Pierluigi Lopalco. Sono circa 37.000 le seconde dosi di AstraZeneca programmate per le prossime settimane per cittadini under 60. A loro verrà somministrato Pfizer o Moderna secondo le indicazioni nazionali. Un quantitativo assolutamente compatibile con le nostre scorte. Ha poi concluso Lopalco. Questa indicazione del CTS non impatterà dunque sulla nostra campagna vaccinale. Gli appuntamenti non subiranno slittamenti. E sono solo 22 i pazienti nelle terapie intensive pugliesi. Infatti i pazienti attualmente assistiti nelle rianimazioni sono, secondo il report dell'Agenzia Nazionale per i servizi sanitari regionali, sono calati notevolmente anche nell'ultima settimana. Il tasso di occupazione dei posti letto è pari al 4% contro il 7% della media nazionale. Nei reparti di malattie infettive e pneumologie invece il tasso di occupazione dell'8% quasi in linea con la media nazionale del 7%. E ora la cronaca l'andiamo a vedere dalle pagine del nostro sito web www.telebari.it ci colleghiamo con il nostro Italo Cinquepalmi. Buongiorno Roberto, oggi siamo a Modugno dove un 19enne del luogo, volto noto alle forze dell'ordine è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il ragazzo in compagnia di un'altra persona in piazza sedile al passaggio della pattuglia dei carabinieri avrebbe tentato di nascondersi dietro le auto in sosta. Insospettiti dall'atteggiamento, i militari hanno deciso di fermare entrambi per un controllo. Dalla perquisizione personale, il 19enne è stato trovato in possesso di mezzo grammo di marijuana nascosto in un foglio di carta piegato in due. Avendo quindi trovato la sostanza stupefacente, i carabinieri hanno deciso di perquisire anche l'abitazione del giovane. Nella sua stanza da letto, nascosto in un cassetto, è stato trovato un piccolo borsello con all'interno 23 dosi di cocaina sigillate per un peso di 10 grammi, 45 euro in contanti, ritenuti provento dell'attività illecita, altre due bustine con un grammo di marijuana e bilancini di precisione, oltre a un proiettile calibro 5,56 Nato. Al termine del controllo, la droga, il materiale e il denaro sono stati sottoposti a sequestro, mentre per il ragazzo sono immediatamente scattate le manette e su disposizione dell'autorità giudiziaria, è stato sottoposto all'obbligo di dimora nel comune di Modugno, nonché all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Bene, con questo quindi è tutto per oggi, Roberto, a te buona giornata. Grazie Italo, noi proseguiamo parlando di cultura, perché se ne è riparlato appunto della ripartenza della cultura in Puglia, le azioni da mettere in campo, un incontro organizzato questa mattina dall'Associazione Bari Libera con la partecipazione tra gli altri di Massimo Brai, assessore alla cultura della Regione Puglia. Lo abbiamo intervistato, sentiamo le sue parole. La mia prima priorità e col lavoro intendo anche la capacità di investire molto in formazione, nella capacità di creare quelle pari opportunità che permettano davvero a una nuova generazione di credere che qualcosa stia cambiando nella nostra regione, che sia possibile realizzare le loro speranze, i loro sogni senza andare via. Economia sicuramente, perché dobbiamo individuare un modello di sviluppo, che sia un modello solidale, un modello capace di non escludere nessuno, che basi la sua forza sulla capacità di accogliere. Questo turismo e cultura, cultura e turismo possono giocare un grandissimo ruolo. Io credo che dovremo ancora continuare per mettere in sicurezza le molte esperienze di attività culturali che non devono in nessun modo rischiare di scomperire. E poi dobbiamo immaginare appunto il futuro in uno spazio medio-lungo, non solo appunto della quotidianità. E ora ci spostiamo a Conversano con un focus sulla buona amministrazione per l'ottava edizione della Scuola per la Buona Politica, al Via Ieri. Servizio di Francesco Russo. Al Via Ieri a Conversano l'ottava edizione della Scuola per la Buona Politica, organizzata dalla Fondazione Giuseppe Di Bagno nella sede della Community Library del Monastero di San Benedetto, con al centro l'approfondimento della complessa macchina dell'amministrazione pubblica, le ragioni della sua sofferenza nel nostro paese, le azioni per costruire una buona amministrazione nel ventunesimo secolo. Non sempre l'aggettivo buono contraddistingue il lavoro degli amministratori, è stato ricordato, ed una scuola serve per chi decide di prendersi la responsabilità del futuro di un territorio. Se ne deve parlare per informarsi e prospettare soluzioni. Alla prima tavola rotonda, amministratori comunali, regionali e il mondo degli imprenditori. Il buon amministratore è colui che ascoltando i cittadini conosce le procedure per trasformare quelle idee e quei progetti che nascono dalla condivisione dei sogni delle aspettative dei propri cittadini in opere pubbliche, in attività e in servizi migliori per la propria comunità. Non esiste impresa pugliese che non ha rapporti con la pubblica amministrazione della Puglia, non esiste imprese italiane che non ha rapporti con la pubblica amministrazione. Quindi avere una pubblica amministrazione con regole certe, rapide, veloci, che facilita l'economia delle imprese è un vantaggio per tutte le imprese. E ora scopriamo le condizioni meteo per questo fine settimana con il colonnello Vita Antonio Laricchia. Possiamo dire che l'alta pressione regna sovrana, l'anticiclone dell'Azzorre piano piano conquista il Mediterraneo, però noi siamo nella parte orientale dell'anticiclone dell'Azzorre. Questo vuol dire che c'è discesa di aria fredda continentale lungo la fascia costa di Adriatica con i venti che vengono richiamati al suolo tra Tramontana, Maestrale, Grecale, sbandierano sempre da quadranci settentrionali. Questo porta alla componente di qualche cumulo, anche il cumulo Nembo, sono quelle nubi che danno luogo ai temporali nelle zone interne sulla fascia ionica. Sulla fascia invece di costa di Adriatica tanto vento con i mari mossi, molto mossi, con grande dispiacere degli amici che andranno al mare. Ma in sostanza il cielo sarà sereno, praticamente poco nuvoloso. Due giornate fotocopie, è quella di sabato e di domenica, ma ripeto, tanto vento, un vento che a volte darà anche un po' di fastidio, i mari mossi localmente, molto mossi. Andrà molto meglio la settimana prossima in Tura con cieli sereni o poco nuvolosi, tenderà ad attenuarsi il vento e questo comporterà anche il rialzo notevole delle temperature dove toccheremo i 30 gradi e sarà una bellissima settimana praticamente al settore essivo. E questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale, e l'informazione di Telebari però prosegue sui nostri canali social e sul nostro sito www.telebari.it A tutti un buon proseguimento di giornata. Il meteo è offerto da Amici Trebbi Meteo, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di domenica che vedrà una rimonta dell'alta pressione sul Mediterraneo centro-occidentale e anche sull'Italia e quindi situazione stabile insomma arriva e scoppia all'estate. Anche come precipitazioni non rischiamo più nulla, negli ultimi giorni i temporali pomeridiani sono stati frequenti invece come vedete per l'intera domenica non vediamo accendersi celle temporalesche sul nostro paese. Quindi in definitiva giornata davvero da piena estate questa domenica da nord a sud solo qualche nuvoletta di passaggio di tanto in tanto però attenzione il caldo si fa sentire soprattutto in pianura padana dove toccheremo anche i 34-35 gradi all'ombra. Per sapere nel dettaglio a questo punto quanto caldo farà anche da voi scaricate l'app di Trebbi Meteo. Il meteo è offerto da GLA Industries Since 1965 we serve solutions per aver immaginato the processions di quello che a questo punto è vero che sono spettino a questa paese di un'ombra che sottot il